I'm back! Non proprio tutti. Fatelo tutti, fatelo tutti! Che vi dicevo? Non è completamente diverso il mondo visto da quassù! Vi avete segato la cattedra. Allora, interroghiamo. Come si chiama lei su Tinder? Il problema non sono gli scherzi. Mia macchina. Un attimo, ho quasi fatto. Il problema sta nel fatto che voi non ve ne frega un cazzo di essere considerati gli sfigati. Voi avete creato la sezione H apposta per isolarci? Chi è che vi ha dato questa informazione? Voi siete gli ultimi contenti di essere gli ultimi. Ci vogliono segare tutti. I studenti non sono tutti uguali. Ci sono studenti di serie A e studenti di serie B. È chiaro? Volevi imbocciarli sin dall'inizio. Ma che vuoi che ci aiuti? Qualcuno che crede in noi. Potete fare solo una cosa. Prendere sto cazzo di diploma. Lei in attesa di un provvedimento disciplinare. Non solo dimentichi. Se continuate a pensare ognuno per conto proprio e non iniziate a darvi una mano fra di voi non ce la farete mai. Lo so quello che pensate di me. Fai male non sorridere mai. Dicono che non me lo dimenticherò mai. Esame di maturità. E invece sapete che cosa non mi dimenticherò mai? La sensazione è che non ero sola. Allora Ricky, cosa puoi dirci della morte di Lenin? Che ci ha sconvolto a tutti. No. 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 No.